Asa Cars è un'azienda fornitrice di servizi di vendita e noleggio di autoveicoli e motoveicoli. Dal 10 aprile 2021 siamo attivi con la nostra terza sede in via Vittorio Veneto 22 a Cava de Tirreni. Finalmente, dopo due anni, la 72esima edizione del torneo di Viareggio, storico torneo internazionale di calcio giovanile, può avere luogo. Doveva essere svolta due anni fa, è stata rinviata più volte per Covid, ma comincerà questo mercoledì. E ai nastri di partenza, tra le squadre maschili iscritte, ci sarà anche la rappresentativa di Serie D Under 18, affidata alle cure di Giuliano Giannichetta, ex tecnico della Viterbese Castrenze e del Racing in Serie C. I calciatori convocati sono 24, tutti di Serie D e tra quelli che militano nell'interregionale e ce n'è uno soltanto che milita nel giro 1-I del campionato di Serie D. Si tratta di Michele Morlando, il terzino sinistro classe 2004 della polisportiva Santa Maria. È un giovane già molto strutturato fisicamente, che Nicoletti ha potuto impiegare pochissimo perché in quel ruolo disponeva già di Masullo e Konios e nelle partite che ha giocato Morlando ha fatto più fase difensiva. Essendo ancora giovanissimo, ha ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la fase d'attacco. In molti si aspettavano anche qualche giocatore della Cavese tra i convocati, dato che ad esempio agli stage ha partecipato l'esterno sinistro Francesco D'Amore, anche egli 2004. Va detto che comunque il calciatore in questo periodo non è al meglio della condizione per problemi fisici. La finalissima sarà disputata il giorno 30, non a Via Reggio allo Stadio dei Pini, ma a Ponte d'Era allo Stadio Mannucci. La rappresentativa è inserita nel gruppo 6 con l'Atalanta, il Siena e con la formazione nigeriana dei Garden City Panthers. Giovedì i ragazzi di Giannichedda debutteranno a Forte dei Marmi con i nigeriani, poi sabato incontreranno l'Atalanta a Pietrasanta e infine nell'ultima giornata della fase eliminatoria la rappresentativa giocherà col Siena a Santa Croce sull'Arno. Se passerà il turno andrà agli ottavi di finale e se dovesse arrivare almeno fino ai quarti, le società che hanno propri giocatori impegnati al Via Reggio potranno richiedere il rinvio della gara del 27 marzo. C'è anche l'ultima edizione del torneo di Via Reggio, disputata tre anni fa, fu vinta dal Bologna contro il Genoa e sulla panchina dei Felsinei c'era proprio Emanuele Troise, l'attuale allenatore della Cavese. Le file del Sassone.